Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mini video presentazione della Pixelmon Ragazzi, sto per andare in live con la Pixel, l'avete già letto su Facebook E nel frattempo sto facendo una cosettina molto carina e simpatica Mi raccomando, guardate un attimo quello che sto facendo perché è molto importante Allora, semplicemente vi sto facendo vedere come sistemo lo spawn che è importantissimo E cosa? Allora, se io prendo la mia bellissima NPC Wand dovrei poter cambiare le proprietà di questi NPC Allora, quello che devo aggiungere io ragazzi, nella zona... non qui... nella zona qui sotto E' una nuova... novità, insomma, è una novità Una novità che abbiamo nella serie Che è questo piccone qua Allora, questo piccone qua ragazzi, che purtroppo è senza texture Ora lo vedete senza texture, ma nel live Ce la metto? Quindi abbiate pazientista Adesso lo vedete così brutto, tranquillo Adesso avrete tutti in live, avrete a vedere tutti la bellissima texture di questo piccone Questo piccone lo metto in vendita a... 500€ Stiamo ancora decidendo il prezzo Io sinceramente opterei per i 1000 1000€ sinceramente mi sembrano giusti Però lo stiamo mettendo a 500€, quanto pare Mi sembra un po'... Un po' pochino i 500€ Però vabbè, poi decidiamo con calma fra noi partecipanti Quindi adesso io metto subito in vendita questo piccone E ragazzi, questo è il Pixelmon Pick Che ovviamente, vi ripeto, non ha la texture Avrà la texture specifica per la pixel Che ce la sta facendo Ev Quindi ringraziamo Ev per la texture E ci saranno anche gli altri attrezzi Ci sarà l'accetta, la pala, ci sarà tutto Però adesso metto solo il piccone Perché ci vuole tempo per fare le texture e pazienza Insomma, adesso abbiamo aggiunto solo questo Quindi, innanzitutto ho messo il piccone in vendita, 500€ Bam! Pixelmon Pick Che adesso, ripeto, metterò la texture Venite in live e la vedete Altre cose che devo fare, ragazzi È annunciarvi che sto andando in live L'ho detto 8 volte Andiamo in live? Avete cliccato la descrizione? Ancora no? Non state cliccando? Non state cliccando? Cliccate? Cliccate? Oh, c'è una orb di fuoco piena? Non ho già catturato Moltres? Forse Non lo so Ragazzi, ci vediamo subito in live Io me ne torno a casa perché inizia la live Togliamo la creative perché non ci chiviamo nulla Et voilà Ci vediamo in live Ora quando lasciate mi piace Quando vi vedete tutto quello che sapete fare Insomma, YouTube lo sapete usare meglio di me Quindi, ci vediamo Ciao Ciao Ciao